Rieccoci ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di un grave fatto di cronaca. Omicidio suicidio nel Trapanese. Un uomo originario di Valderice ha ucciso a colpi di arma da fuoco l'ex compagna originaria di Salemi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe dato appuntamento alla donna nell'azienda di famiglia incontrata a Farla al confine tra Mazzara e Marsala e l'ha uccisa. Poi si è recato su un viadotto all'ingresso di Castellammare del Golfo e si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. A trovare il corpo è stata la polizia stradale. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile di Trapani. Ovviamente vi daremo ulteriori dettagli su questo grave fatto di cronaca avvenuto nella Trapanese. Ulteriori dettagli poi nelle prossime edizioni di Spazio Notizia. Noi intanto andiamo avanti, ci spostiamo virtualmente nel Palermitano per la precisione a Montelepre. Parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti e dell'arresto da parte dei carabinieri di una giovane pusher, una ventunenne che andava in giro in monopattino per spacciare la sostanza stupefacente. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato un ventunenne con precedenti di polizia con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari della stazione di Montelepre hanno proceduto alla perquisizione del giovane che è stato fermato alla guida di un monopattino elettrico. Il ragazzo sarebbe stato trovato in possesso di 84 grammi di hashish, parte della quale già divisa in dosi, nonché di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga rinvenuta è stata sequestrata e trasmessa al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi. L'arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stato ristretto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, al termine della quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Taormina. Il consigliere comunale Francesca Gullotta dice no alla vendita della Badia Vecchia, un bene storico della comune di Taormina e per questo inalienabile. L'ha intervistata per noi Mauro Romano. Vendita della Badia Vecchia sì o no? Siamo qui con il consigliere comunale Francesca Gullotta. Cosa ne pensa di questa decisione dell'amministrazione attiva? Beh, intanto non sono assolutamente d'accordo per diverse ragioni. La prima è sicuramente quella che la Badia Vecchia è un bene monumentale, architettonico, storico di alto valore, anzi di inconmensurabile valore e come tale non può essere chiaramente alienato. Lo si riscontra questo anche nella scheda dell'inventario del comune di Taormina, da dove si rileva che questo bene è stato acquistato dall'ex sindaco Eugenio Longo nel lontano 1958 ed è stato acquistato per 12 milioni di lire, ma sicuramente come detto prima il suo valore è sostanzialmente simbolico ed è comunque un bene vincolato e come tale non può essere alienato, cioè non può essere venduto. In tal senso la sua è una funzione chiaramente pubblica e non può essere sottoposta a vendita alcuna. Quindi già questo ci porta a pensare che la scelta fatta da questa amministrazione sia di fatto sicuramente non condivisibile. in più ci sono motivazioni di ordine storico e anche diciamo affettivo. La Badia Vecchia è infatti un luogo a cui i taorminesi sono molto legati perché è un palazzo del 300 del periodo aragonese ed è praticamente un contenitore di queste vestigia del nostro passato che noi abbiamo il dovere di custodire e abbiamo il dovere di chiaramente difendere. A questo palazzo siamo legati anche da da un sentimento religioso mi permetto di dire perché in questo palazzo nel suo pozzo sono state trovate due icone bizantine molto importanti per i taorminesi. La Madonna non manufatta che possiamo ammirare presso il nostro duomo la cui manta argentea è stata restaurata qualche anno fa se non ricordo male nel 2017 ed è praticamente venerata ancora oggi ogni anno nel mese di gennaio ed è importante per il culto mariano. E poi anche un'altra bellissima icona bizantina che è la Madonna col bambino che potete ammirare che possiamo ammirare tutti presso la sala Giovanni di Giovanni nella ex chiesa di Sant'Agostino. Quindi le ragioni sono tante e sono tante perché di fatto nessuno, io penso, ha il diritto di sottoporre a vendita quella che è la storia di Taormina. I nostri beni culturali sono sostanzialmente dei tesori che ciascuno di noi non si permetterebbe mai di sottoporre ad alienazione. Pertanto spero che tutto questo problema venga, diciamo così, affrontato in maniera più seria, più attenta, proprio perché sicuramente va sottoposto a dibattito, non è così semplice, inserire tra i beni da alienare i palazzi storici che sono il fiore all'occhiello della nostra città. Parliamo di calcio con il Palermo che ieri ha presentato uno dei colpi del mercato estivo, ovvero Federico Di Francesco. Allora sentiamo le sue dichiarazioni rilasciate da calciatore rosa nero in conferenza stampa. Ci tenevo a ringraziare prima di tutto la società per l'opportunità, per il fatto di avermi voluto e di averlo percepito fin dall'inizio. I miei compagni che mi hanno accolto subito bene, ne conoscevo molti, quindi questo ha facilitato un po' il mio ingresso e poi anche i tifosi per il loro calore, perché comunque l'ho percepito da subito e questo penso per un giocatore sia importante. Penso che gli stimoli, l'ambizione siano per un calciatore la cosa più importante. Io da quando ho parlato col Palermo ho percepito subito la voglia e l'ambizione di una società che vuole crescere, che sa che comunque la Serie B è un campionato duro, ma che ha la volontà e la voglia di fare un campionato per essere competitivi, per riuscire a centrare la promozione in Serie A. Sappiamo che è dura perché la B è un campionato duro, ci sono tante altre squadre corazzate, però dobbiamo cercare di dare tutto con l'equilibrio perché sappiamo che ci vuole soprattutto quello equilibrio e poi ci vuole un gruppo, un gruppo forte, un gruppo che nel bene e nel male c'è sempre, io penso che qui ci siano i presupposti e poi col fatto che dietro ci sia un gruppo come il City Group che da dietro ci guida e che è comunque uno dei gruppi più importanti al mondo per quanto riguarda il calcio, questo permette comunque alla società di continuare a crescere e di essere sempre ambizioso e quindi tutti questi fattori mi hanno portato a scegliere Palermo, anche se devo ringraziare il Lecce per l'opportunità che mi aveva dato, non è stato facile da un punto di vista emotivo perché comunque mi sono trovato bene lì, però la voglia e il richiamo di Palermo era tanto e la voglia di intraprendere questa avventura. La settimana scorsa è stata una settimana particolare, poi come sempre il cambiamento porta porta con sé stress, viaggi, sicuramente ho fatto più viaggi che allenamenti, tra visite e venire qui a Palermo, quindi avendo un solo allenamento sulle gambe era una partita che diciamo c'era un po' di incognite, non sapevo quello che sarebbe successo se entrava o meno, però comunque io quando sono arrivato poi al Barbera sabato prima della partita ho avuto subito sensazioni positive dentro di me, avevo la speranza di poter entrare anche solo per dieci minuti e ti dico è stato emozionante, è stato emozionante perché fare col subito comunque dopo cinque minuti penso era l'esordio migliore che potessi desiderare. Doppia presentazione invece in casa Catania, si tratta della difensore Tommaso Silvestri e della centrocampista Francesco Deli, entrambi hanno parlato ai canali ufficiali del club rossazzurro, allora sentiamo le loro dichiarazioni. Faccio difficoltà a trovare le parole per descrivere l'emozione che ho provato in quei minuti perché poi si parla di minuti, di secondi, appena si è spaventata l'occasione di tornare a Catania non ci ho pensato su due volte, sapete tutti quanti cosa vuol dire per me questo posto, questa piazza, questi colori e sono orgoglioso di essere tornato qui e mi auguro che ci possiamo togliere tutti quanti delle grandissime soddisfazioni. Non me lo immaginavo ma me lo sognavo probabilmente perché quello che ho dato nella mia prima esperienza qui a Catania è stato qualcosa di importante, forse l'esperienza più importante sotto il profilo calcistico ma anche umano per me. Penso di aver dato tutto quello che potevo a questa piazza, a questa gente, a questi colori e essere ricordato in maniera positiva soprattutto per quello che ho dato sia dentro che fuori dal campo è qualcosa di bello, di importante. Mi auguro, ripeto, come ho detto prima, di poter aiutare questa squadra e questa gente a gioire. Fai difficoltà a pensare a una categoria quando il Catania chiama, io non ho avuto ovviamente dubbi perché è difficile, un giocatore che vuole fare questo per lavoro non guarda la categoria quando il Catania chiama. Da quello che ho sentito e che ho potuto vedere almeno nella prima partita è un Catania importante, è un Catania importante per la categoria, è un Catania che sicuramente dovrà pensare a fare un campionato importante. Sono molto felice di essere qui, conosco bene Zammarini e Dubiskas che ci ha giocato l'anno scorso, ho giocato anche con Chirico a Foggia nella vittoria del campionato appunto e con Di Carmina a Cremona, quindi con i ragazzi poi con gli altri è subito scattato il feeling, quindi mi trovo benissimo. Sono una mezzala offensiva, infatti ho giocato anche molto a trequartista, sono un centrocampista offensivo, dai. Un progetto ambizioso, di una società forte, di una bella città e non vedo l'ora di iniziare e di venire al Massimino. Grande soddisfazione e grande riconoscimento per Novara di Sicilia, il celebre gioco del Maiorchino è stato infatti iscritto nel registro Unesco. Importante riconoscimento per il gioco del Maiorchino che consiste nel lanciare, proprio come si fa con una ruota, la tradizionale forma di formaggio lungo una strada in discesa del borgo di Novara di Sicilia, in provincia di Messina. Il Ministero della Cultura lo ha iscritto, insieme a 27 giochi antichi italiani facenti parte del Tocatì, nel registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale Unesco, unico gioco siciliano insignito. La consegna del riconoscimento è avvenuta nei giorni scorsi a Roma. Alla cerimonia hanno partecipato i soci dell'associazione Circolo Sportivo Olimpia, il Maiorchino, con il presidente Angelo Di Pietro, Salvatore Bartolotta, socio anche dell'associazione Giochi Antichi di Verona, la presidente della Proloco Angela Puglisi e il vice sindaco Salvatore Buemi. Il percorso Unesco è iniziato nel novembre del 2016 e ha lo scopo di favorire la reciproca conoscenza di tante comunità ludiche praticanti giochi e sport tradizionali in Italia e nel mondo. L'associazione veronese ha costruito nel tempo, attraverso il festival, una rete a livello nazionale e internazionale che coinvolge oltre l'Italia, il Belgio, la Croazia, Cipro e la Francia. Il percorso di candidatura si è concluso il 3 dicembre 2022 in Marocco, dove la rete del Tocatì è stata riconosciuta come patrimonio Unesco e di conseguenza iscritta nel registro delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Il lancio del Maiorchino è stato iscritto anche alle associazioni europea e internazionale dei giochi e degli sport tradizionali. Ci fermiamo qui, è tutto, ma ci ritroviamo più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. A dopo. Grazie.